Robo 6, going dog Per una live veramente importantissima perché un nostro iscritto ci ha regalato 30 codici che vuole appunto dare alla community, alla nostra community di Call of Duty Quindi vi aspetto alle 13.30 su Twitch dove regaleremo 30 codici da poter riscattare per i giorni di beta chiusa all'interno del periodo di settembre di Call of Duty Modern Warfare Quindi spargete la voce, vi aspettiamo Ieri aggiornamento per quanto riguarda Call of Duty Black Ops 4 Molto interessante, innanzitutto è stato introdotto Ambush versione solo all'interno di Blackout e ritorna la versione LTM nella rotazione del weekend Deathmatch Domination più Party Game Mosfit introdotta all'interno delle playlist multiplayer e arriverà domani giovedì 29 agosto at Wave Nuovo evento contrabbando, a quanto pare saranno altri 60 livelli che potremo giocare all'interno appunto del pass del mercato nero L'ultimo livello dovrebbe proporre nuovamente un Ultra Weapon Bribe Quindi nuovi 60 livelli da dover fare all'interno del mercato nero per ottenere appunto ricompense all'interno del titolo Pochi minuti più tardi poi la Triarch ha affermato che la variante meteorologica della mappa Jungle Flooded Vi ricordate che doveva uscire già diverso tempo fa, quindi una sorta di jungle allagata per Black Ops 4 Arriverà a metà settembre con un nuovo aggiornamento dell'operazione Apocalypse Z Quindi sembrerebbe che non arriverà un'operazione completamente nuova Ma aggiornamenti continui dell'ultima operazione in essere Apocalypse Z dedicata appunto al mondo zombie Passiamo a parlare invece di Call of Duty Modern Warfare Perché ieri uno si è scritto durante la live delle 13.30 Ci ha spiegato che se ancora non si riceve il codice da parte di Amazon Basterà contattare il servizio clienti via email e manderanno a quanto pare il giorno dopo il codice Per riscattare la beta chiusa di settembre Quindi nel caso fosse così vi invitiamo subito a contattare l'assistenza di Amazon Il designer di Infinity Ward ieri ha affermato che nei recenti Call of Duty hanno cercato di bilanciare ogni elemento presente nel gioco Portando certe volte a perdere quello che è il gameplay originario Mother Warfare lascerà spazio al divertimento, all'azione aggiunge e manterrà degli stili di gioco invariati Per permettere alla community di adattarsi nel tempo Inoltre una cosa molto curiosa Un tweet poi cancellato da parte di Taylor Kurosaki Dice che gli sviluppatori stanno rimanendo nell'ombra in questi giorni Questo spiegherebbe perché non ci sono novità riguardo a Mother Warfare nelle ultime ore Infatti il tweet si conclude dicendo ci vediamo tutti a breve Potrebbe essere questa la conferma che il reveal della campagna è praticamente alle porte Chiudiamo il video informativo con un leaks arrivato ieri sera da parte di TGR Che conferma che all'interno di Mother Warfare ritroveremo una modalità simile a Cranked Abbiamo visto all'interno di Ghost una modalità che se ben vi ricordate Portava ad avere abilità extra ogni volta che facevamo delle uccisioni Doppi punti e la nostra vita durava 30 secondi Se uccidiamo oltre persone si allungava la nostra permanenza all'interno del match Quindi era una modalità molto carina, molto frenetica Che potrebbe starci veramente bene con il gameplay provato già nella 2v2 di Mother Warfare Qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate Vi aspetto alle 13.30 così vi regaleremo questi 30 codici per la beta chiusa di Mother Warfare E noi ci vediamo ad un prossimo video